Ciao a tutti, sono a Kazan, una splendida città russa che si trova nella regione del Volga. Tra l'altro Kazan è la capitale della Repubblica del Tatarstan, una delle 22 repubbliche che fanno parte della Federazione Russa. La Russia è un paese molto più complicato di come venga descritto dalla nostra parte, un paese immenso dove vivono decine e decine di etnie diverse, dove si parlano molte lingue oltre al russo, qui a Kazan si parla il Tatar, dove ci sono milioni di musulmani, dove ci sono buddisti, ebrei, chiaramente cristiano ortodossi, un paese che andrebbe approfondito, studiato più approfonditamente dal punto di vista storico e politico, anche per capire come si muove, come vede determinate minacce, come interpreta il presente, come magari potrà agire in futuro. E Kazan è una città dove tra l'altro c'è un bellissimo Cremlino, questa cittadella, una fortezza tutelata dall'UNESCO, e nelle prossime ore lascerò la regione del Volga e attraverserò gli Urali entrando di fatto nella Russia asiatica. Leggo i vostri commenti, le critiche, tante domande, ad alcune vorrei rispondere. Qualcuno mi chiede approfondimenti sul tema del presunto isolamento della Russia, ho già vi raccontato quel che è avvenuto negli ultimi giorni, i BRIC si sono riuniti, sempre più accordi commerciali vengono sottoscritti tra Russia, Cina e India. L'Iran e l'Argentina hanno fatto richiesto ufficiale di adesione ai BRICS, nella settimana scorsa Putin è volato in Tajikistan, in Turkmenistan, in Turkmenistan ha incontrato i paesi del Caspio, e poco dopo ha ricevuto al Cremlino il premier indonesiano, e nelle ultime ore Lavrov ha sottoscritto dei accordi commerciali, diciamo ha rafforzato la partnership politica commerciale da noi con il Vietnam, e poi poco prima aveva incassato lo che è definitivo alla costruzione, un enorme gasdotto che porterà gas in Cina attraverso la Mongolia, gas siberiano che attraverso la Mongolia arriverà in Cina. La strategia, come vi dicevo, ve l'ho detto nell'ultimo video, è piuttosto chiara, la Russia guarda ormai altrove, non dico che dia per perduto del tutto il rapporto con l'Unione Europea, ma guarda altrove, sottoscrive accordi in particolare con paesi emergenti, scommettendo nella crescita dell'economia di tali paesi, paesi soprattutto molto molto popolosi, la Cina è il paese più popolato al mondo, l'India è il secondo, l'Indonesia è il quarto, il Vietnam è il quindicesimo, 100 milioni di abitanti non sono pochi, questa è la strategia, guardare altrove, costruire nuovi mercati. Altra cosa, critica, qualcuno ha letto il reportage che ho scritto sul fatto, in cui io ho scritto queste parole, i prezzi qui in Russia sono aumentati, ma meno di quanto non lo siano aumentati in Italia, e banalmente qualcuno mi ha ricordato l'inflazione in Italia, l'inflazione nella federazione russa, io vi do questi dati, tra l'altro pubblicati dal Corriere della Sera, all'interno di un pezzo, pubblicato il 2 luglio, intitolato Dagli alimentari agli spostamenti come limitare le spese in famiglia, cioè il principale quotidiano italiano pubblica un pezzo su come limitare le spese in famiglia, intervenendo sulla nostra alimentazione, sui nostri spostamenti, non sulle borse di or, no, sull'alimentazione, questo è sintomatico, e ha pubblicato un box, Fonte Istat, con una serie di rincari nell'ultimo anno, l'energia elettrica in Italia, più 87%, il gasolio per riscaldamento, più 52%, l'olio di semi, semi vari, insomma, oli alimentari, olio di oliva escluso, più 68%, basta andare al supermercato a comprare un litro di olio di semi, di girasolo di mais, gasolio carburante, più 32%, benzina, più 25%, burro, più 27%, farine e cereali, più 20%, pasta e couscous, più 18%. Ecco, ribadisco che i prezzi aumentati, anche in virtù delle sanzioni e dell'instabilità economica in Russia, ci sono stati, la stragrande maggioranza di questi prodotti che ho menzionato non sono neanche lontanamente aumentati come sono aumentati in Italia, quindi ribadisco ciò che ho detto, senz'altro sono aumentate moltissime merce di importazione, moltissimo, chiaramente, in virtù delle sanzioni e delle difficoltà dei trasporti, e anche dell'aumento dei costi del carburante per i trasporti, ma sono aumentate queste cose in Russia in maniera esponenziale, il punto è che i russi non comprano o comprano sempre meno questi prodotti. Quel che voglio dire è che determinate cose sono indispensabili per la nostra vita, alcuni alimenti, senz'altro l'olio, il burro, la farina, la pasta, l'energia elettrica, il gas, che altro, il gasolio, la benzina e tutto quanto, questi prodotti sono aumentati in Russia, tra l'altro la benzina negli ultimi dieci giorni è anche leggermente diminuita, quando sono arrivato stava a 60 rubri al litro, la verde ora sta a 57, quindi è leggermente diminuita, e tra l'altro parliamo di meno di un euro al litro, con un rublo estremamente forte, quando il rublo era sceso moltissimo, le settimane successive all'invasione russa in Ucraina, un litro di benzina poteva costare, facendo un raffronto, 50 centesimi di euro, da noi ha ampiamente sfondato il tetto di 2 euro al litro. Mi dicevo ecco, queste cose che sono indispensabili per la nostra vita, in Russia sono aumentate mediamente, molto ma molto meno di quanto non siano aumentate appunto in Italia, era questo l'esempio che facevo. Poi ripeto che le sanzioni non stiano funzionando dal punto di vista politico, e stiano rafforzando politicamente Putin, è un fatto, non è un'opinione, è un fatto, e basta parlare con chiunque, con coloro che sostengono Putin, e poi arriviamo anche al perché di tale sostegno, di coloro che sono critici rispetto a Putin, e anche tra coloro che detestano Putin, anche coloro che odiano Putin, reputano delle sanzioni ipocrite, perché dicono voi non le avete applicate, quando gli Stati Uniti d'America o altri paesi bombardavano l'Iraq, l'Afghanistan facendo un milione e passa di morti, non le avete applicate, le applicate a noi, chi sostiene Putin dice che ci stiamo difendendo, chi non sostiene Putin dice che stiamo facendo una guerra ignobile, e non sono tanti, vorrei soltanto dire che non tante persone oggi come oggi ragionano così, purtroppo, ma non tante ragionano così, ecco anche coloro che sono assolutamente detrattori di Putin, reputano le sanzioni controproducenti, reputano le sanzioni alla lunga, potranno addirittura rafforzare l'economia russa, vi facevo l'esempio delle sanzioni e delle controsanzioni che sono state imposte all'Unione Europea dalla Russia, in materia appunto di importazioni di prodotti freschi dall'Europa alimentare, grazie a quelle controsanzioni, molte persone sostengono che sia partita di fatto, o quantomeno rafforzata, sia stata rafforzata l'industria alimentare russa, perché prima compravano determinati prodotti, altrove oggi iniziano a produrseli da soli. Questo era per rispondere appunto a quella critica, perché nell'articolo scritto nel frattempo, ho scritto che molte persone sostengono appunto che Putin sia stato capace di risollevare un paese, ridare orgoglio e dignità a un paese. Piaccia o non piaccia, questo è un altro fatto. La stragrande maggioranza dei russi pensa questo di Putin, pensa che Putin sia stato capace di risollevare un paese che era sostanzialmente fallito dopo i dieci anni delle privatizzazioni selvagge imposte, soprattutto dal Fondo Monetario Internazionale, qui viene vista come un'imposizione americana, poi non è del tutto sbagliato come visione, come percezione. Anni drammatici in cui milioni e milioni di russi pativano la fame, in cui nacque lo strapotere degli oligarchi, iniziò ad esserci un allargamento della forbice tra pochi ricchi e tanti, tanti poveri, inaccettabili. Ecco, per molti russi Putin è quello che ha riequilibrato la situazione in ambito nazionale, economico e anche in ambito internazionale, dopo una serie di umiliazioni che qui hanno percepito, sempre per dirla al professor Barbero, le umiliazioni subite dalla Russia dopo il crollo dell'Unione Sovietica fino a pochi anni fa fanno parte della memoria storica di un popolo e bisogna ricordarle per capire il perché vi è un così tale sostegno anche all'operazione militare, alla guerra, all'intervento militare, ma soprattutto verso appunto il presidente Putin. Ve le voglio ricordare queste umiliazioni. Ricorderete l'allargamento della Nato che non era stato promesso il contrario dopo che sostanzialmente l'Unione Sovietica ritirò i propri soldati dalla Germania Est poco prima della riunificazione tedesca, venne garantito nessun allargamento della Nato ad Est. La Nato quando venne sciolto il patto di Varsavia proseguì la sua esistenza in chiaro antirossa e anche questo venne visto come una sorta di umiliazione. La Nato ha violato una serie di patti, quantomeno forse non scritti tutti, questo per esempio Gorbaccio viene anche criticato perché non fu capace di far sottoscrivere determinati accordi appunto ai partner occidentali, soprattutto all'Istituto dell'America. Nel 99 venne bombardata a Belgrado la Serbia, che era il principale alleato in Europa della federazione russa. Non riuscirono a rispondere i russi, che erano particolarmente deboli, quei bombardamenti ci furono a cavallo poi tra la presidenza Yeltsin e la presidenza di Putin. I dieci anni, come vi dicevo, in precedenza delle privatizzazioni furono anni drammatici, anche questi vennero visti come una sorta di umiliazione capitalistica alla Russia. Il Fondo Monetario Internazionale aveva suggerito a Yeltsin una serie di misure economiche da prendere, privatizzazioni selvagge, che non avevano, non erano riuscite a funzionare minimamente, anzi avevano prodotto estrema povertà. E il Fondo Monetario Internazionale, piaccia o non piaccia, è un'istituzione molto legata a Washington, a sede a Washington, nacque l'FMI con gli accordi Bretton Woods. L'attacco all'Iraq, Saddam Hussein era uno dei principali alleati della Russia in Medio Oriente, non vi scandalizzate, perché poco prima era un alleato di tutti i paesi occidentali. Saddam venne armato praticamente da tutti i paesi, dalla Germania, dall'Unione Sovietica, dagli Stati Uniti d'America, in quel momento, pensate, in quel momento storico, l'Iraq venne armato contemporaneamente sia dall'URSS che dagli Stati Uniti in chiave anti-iraniana, appunto per sconfiggere gli iraniani durante la guerra iraqi-iran. E Saddam era ancora buon amico anche quando produceva delle armi chimiche, che poi, quando venne attaccato appunto dagli Stati Uniti d'America, non aveva più, anche perché le aveva usate, prodotte anche grazie a tecnologie occidentali, probabilmente tedesche e francese, e poi utilizzate per gasare i kurdi di Al-Absha, che è una città che si trova nel Kurdistan iracheno, non lontano da alcune montagne, che segnano il confine tra l'Iraqi e l'Iran, tra il Kurdistan iracheno e il Kurdistan iraniano. 2008 vi fu il vertice famoso di Budapest, in cui George Bush chiese ufficialmente l'entrata di Georgia e Ucraina nella NATO. All'epoca l'Unione Europea, ovviamente Francia, Germania e Italia, riuscì a mettersi di traverso e andare contro una richiesta americana. Oggi è praticamente impossibile. C'era la Merkel, che si oppose più di ogni altro, e poi a ruota arrivarono Francia e Italia, appunto ad un allargamento della NATO alla Georgia e all'Ucraina. Era un'idea di Bush. Tra l'altro, quel vertice, Bucharest 2008, ebbe luogo un anno dopo il famoso discorso di Putin a Monaco, in cui disse chiaramente che la Russia non avrebbe più accettato nuove minacce, che si sentivano minacciati, che avevano subito una serie di umiliazioni intollerabili, tutte cose che appunto hanno iniziato a far parte della memoria storica e della percezione politica dei russi, questi abitanti di questo paese, comunque che ancora, forse in maniera illusoria, lì deve essere un'enorme potenza, un impero, l'impero zarista, sono stati l'Unione Sovietica, comunque un'enorme unione che raccoglieva repubbliche socialiste sovietiche all'interno del quale tutti si sentivano comunque cittadini sovietici. Ecco, il vertice di Bucharest durante il quale venne proposto l'entrata appunto dell'Ucraina e della Georgia nella NATO, bocciata da Germania, Francia e Italia, ebbe luogo un anno dopo quel discorso di Putin in cui metteva in guardia i paesi occidentali rispetto a future provocazioni o possibili minacce sentite dalla Russia, per arrivare poi alla guerra in Libia, voluta dalla NATO, in particolare da Sarkozy, dalla Francia di Sarkozy, e anche da Hillary Clinton, che era segretaria di Stato americano, per buttare giù Gheddafi per una serie di ignobili, motivazioni che nulla avevano a che fare con i diritti umani, figuriamoci, non ha a che fare con l'idea di Gheddafi di costituire quasi una moneta alternativa al franco-coloniale, al franco-francese in Africa, una serie di rapporti privilegiati che aveva Gheddafi con Cina e Russia. Era un alleato di Putin. Probabilmente Sarkozy temeva che Gheddafi potesse parlare rispetto a flussi di denaro che dalla Libia sono partiti in direzione Eliseo Sarkozy per finanziare la sua campagna elettorale, chissà, magari anche per fare altro, il personaggio è quello che è Sarkozy. Ecco, la guerra in Libia, l'uccisione Gheddafi, anche sono stati visti dalla Russia come una minaccia, come l'ennesima provocazione, per arrivare poi a 2014, quando ci fu a Kiev un colpo di Stato, supportato soprattutto da britannici e americani. viene defenestrato un presidente legittimamente, democraticamente eletto. Partirono delle rappresaglie in Donbass subite dagli abitanti russofoni che poi, come ricorda il professor Barbero, si sentono russi perché bisogna comprendere che in Ucraina c'è una fetta della popolazione che pur essendo, pur avendo la cittadinanza ucraina, non si sentono ucraini, si sentono russi. Questo è un altro fatto, che va tenuto in considerazione. Io neanche più dicono Russia invade e l'Ucraina invasa, insomma, o condanno la guerra preventiva perché l'ho fatto mille volte, non lo farò più. Parlo di altro, perché è chiaro, quello che ho già detto dovevo dirlo. Poi se qualcuno vuole strumentalizzare tutto questo che dico e dandomi del putiniano, non me ne importa nulla. Vi dicevo anche che è la provocazione dell'intervento dell'inviata del Dipartimento di Stato Victoria Nuland inviata in Ucraina, con delega in Ucraina, che viene intercettata, probabilmente sono stati i servizi segreti russi a intercettare una conversazione tra lei, l'ambasciatore americano a Kiev e durante questa conversazione, subito dopo appunto il colpo di Stato successivo all'Euromaidan, Nuland, Victoria Nuland, parlava della composizione del governo ucraino, cioè parlava di chi dovesse occupare un di castero, un ministero, un altro, con l'ambasciatore americano, cioè come se l'Ucraina fosse una colonia americana, come se appunto gli americani dovessero decidere i ministri, la composizione dei ministri del governo ucraino e quando l'ambasciatore, c'è tutto, anche su YouTube l'ha trovata, l'ambasciatore americano le ricorda che forse occorrerebbe coinvolgere un'europea, lei dice fa che io, vaffanculo all'europea, che si fottano gli europei, come dire qui, comandiamo noi, ecco tutto questo, mettiamolo in fila, rappresenta appunto anni e anni di provocazione subiti dalla Russia, che per me non giustificano appunto l'intervento, ma vanno tenuti in considerazione, anche per capire come si comporta una grande potenza. Dubito fortemente che se tali provocazioni le avesse subite, le avesse subite gli Stati Uniti d'America, non avrebbero reagito come reagito la Russia, proprio in maniera più violenta. Basti guardare la storia americana, sudamericana, centroamericana, come si sono comportati gli Stati Uniti d'America, le agenzie di intelligenza, la CIA, nei paesi latinoamericani, che avevano eletto democraticamente dei presidenti che potevano essere ostili agli interessi americani e che sono stati poi spazzati via spesso e volentieri da colpi di Stato. Ci ricordiamo a Iente, ma anche Jacopo Arbenz e tanti altri. Andiamo oltre. Cosa interessante, anche legato al fatto che appunto vi dicevo all'inizio di questo video che esistono tante repubbliche nella federazione russa, tante etnie diverse, esistono anche movimenti nazionalisti, ci sono dei cittadini che non si sentono più o comunque non si sentono più come prima russi al 100%. Ecco, io credo che la prossima provocazione sarà da parte soprattutto americana, quella di supportare il più possibile il nazionalismo di alcune etnie che vi è presente per adesso ancora forse dormiente all'interno della federazione russa. Pensate che il 23 giugno scorso a Washington ha avuto luogo un convegno intitolato Decolonizziamo la Russia. Decolonizziamo. Vi voglio leggere un pezzo della presentazione. La guerra in Ucraina ha catalizzato un dibattito atteso da tempo sull'impero all'interno della Russia dato il dominio di Mosca su molte azioni indigene, autoctone, non russe. Decolonizziamo la Russia. A Washington la Commissione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, per intendersi la US Helsinki Commission, si è riunita per organizzare un convegno con il tema con il tema la decolonizzazione della Russia che ha messo a tanto di rivoluzioni arabe, di primavera arabe, di interventi per, come dire, quanto meno di ingerenze nei fatti di un paese straniero per tentare appunto di destabilizzare insomma una storia vecchia, stravecchia, vista a rivista. Ecco, mettete in relazione questa possibile nuova provocazione appunto con la composizione della Federazione Russa, le etnie che vivono, le lingue che si parlano, le differenti religioni che vengono praticate all'interno appunto del paese. E che altro? Ah, vi dicevo prima rispetto al Donbass, il prossimo reportage che scriverò per il fatto, lo scriverò sui rifugiati che ho incontrato a Belgorod che è la città al confine con l'Ucraina che è stata recentemente bombardata dall'esercito ucraino e racconterò quello che mi hanno detto. Io non credo che, anche per rispondere a coloro che mi dicono perché non sei un'Ucraina, in Ucraina ci sono tanti corrispondenti, giornalisti in gamba che fanno un lavoro anche molto pericoloso e che raccontano quel che devono raccontare. Per me era interessante, lo è moltissimo, ho fatto la scelta giusta ritengo, tentare raccontare come appunto la visione russa, come i russi guardano le cose, tentare di darvi delle informazioni su questo immenso paese per dare appunto delle chiavi di lettura e poi racconterò anche le storie dei rifugiati in Russia provenienti dal Donbass, le violenze che hanno subito dalle milizie neonaziste ucraine negli ultimi anni perché io credo che abbiano le loro storie, le loro tragedie, i loro morti, la stessa identica dignità, dovrebbero avere la stessa identica dignità che hanno giustamente le tragedie, i morti, i rifugiati, le difficoltà enormi che vivono moltissimi cittadini ucraini. Non credo che i morti in Donbass per mano in Ucraina negli ultimi otto anni, qua non c'è una persona che ho incontrato. Io faccio a tutti la stessa domanda. La guerra è iniziata cinque mesi fa nel 2014, tutti mi rispondono al 2014, tutti da quelli che hanno le zeta sulla maglietta e sostengono totalmente l'invasione russa dell'Ucraina a coloro che non hanno mai votato Putin e che si sentono che vorrebbero soltanto magari andarsene la Russia chissà, vivere altrove perché detestano Putin. Non c'è una persona alla quale io abbia fatto questa domanda quando è iniziata la guerra che non abbia risposto nel 2014, voi però ve lo siete dimenticati. Tutti, anche i detrattori di Putin mi dicono questo, voi vi siete dimenticati dei nostri morti in Donbass negli ultimi otto anni e credo che abbiano questi morti la stessa identica dignità di altri morti per cui lo ne scriverò e racconterò le loro storie che poi ripeto qualcuno possa dire che io parteggi per una parte non me ne frega niente. Ora, random, cose rispetto all'Unione Europea poi si lamentano del perché vi è così scarsa fiducia verso l'Unione Europea. Il Parlamento ha bocciato la richiesta di alcune forze politiche di togliere come energia verde come green il nucleare e il gas e invece l'Unione Europea ha deciso di inserire quindi di far arrivare i futuri investimenti green anche al settore gas e nucleare. è stato stanziato è stato dato l'ok al primo miliardo per la ricostruzione da parte dell'Unione Europea a Kiev il primo miliardo è parte di una tranche di quasi 9 miliardi l'Unione Europea anche contravvenendo da alcune unaprassi giustamente non è che mi scandalizza questa passata ha deciso di garantire al 70% questi prestiti che dà all'Ucraina cioè su un miliardo di euro prestati gli ucraini non dovessero restituire nulla non potessero restituire 700 milioni diciamo ce li metterebbe l'Unione Europea al 70% poi ah prima vi parlavo ho raccontato come possibile provocazione come provocazione la defenestrazione di Gheddafi la guerra in Libia è una guerra che è costata moltissimo all'Italia pensate l'idiozia del governo italiano dello Scogna era un ottimo amico di Gheddafi ma si è piegato per pavidità ai diktat provenienti interni di Napolitano e di un pezzo del Partito Democratico particolarmente interventista e anche una parte del proprio partito immagino Gianni Letta fosse d'accordo con la guerra in Libia ma si è piegata appunto ai diktat francesi e americani accettando un'invasione che ha rappresentato una perdita di sicurezza anche economica e politica geopolitica per l'Italia stessa insomma è stato buttato giù piaccia o non piaccia il partner principale nel Mediterraneo dell'Italia ecco guardate come sta il paese oggi pensate che un giornale libico ha pubblicato notizia vedremo se verrà confermata su un probabile taglio del 25% delle esportazioni di gas libico verso l'Italia verso l'Eni 25% in meno questo perché alcuni gruppi armati controllano dei giacimenti di gas nell'est del paese della Libia per cui vi è carenza di gas per il funzionamento delle centrali elettriche a gas libiche cioè ci sono dei blackout quindi per questo questo paese ha lo sbando dopo questa guerra che doveva portare democrazia e diritti umani invece ha lasciato soltanto morte distruzione e un inferno in Libia tra l'altro pezzi della Libia sono sotto il controllo di Erdogan il dittatore che c'è utile Draghi e Dixit e altri pezzi sono addirittura sotto il controllo in un certo senso degli stessi russi questo hanno prodotto le guerre altre guerre che non hanno goduto della stessa attenzione della guerra in Ucraina credo aver detto tutto hanno l'ultima sempre parlando di quel che avviene in Europa e anche rispetto alla strategia europea e in generale iniziano i salvataggi di Stato Uniper che è un colosso del gas tedesco sta per essere salvato dal governo tedesco 9 miliardi di euro dei contribuenti e la Francia il governo francese ha nazionalizzato del tutto insomma ha acquisito il 100% di Electricité de France che l'Enel francese questo per mettere le mani secondo me anche giustamente in un momento di grande crisi di controllare al 100% un settore strategico come quello dell'energia io credo che in Italia si dovrebbero fare dibattiti del genere io non credo ripeto che il governo italiano molto più incline a soddisfare gli interessi di Washington che l'interesse generale si stia rendendo conto di quel che arriverà ad autunno nel prossimo autunno io non credo che se ne stiano rendendo conto ad ogni modo spero di avervi fornito qualche informazione ulteriore sul mio viaggio sul lavoro che sto facendo vi dicevo il prossimo reportage lo scriverò su quel che mi hanno raccontato a Belgorod i rifugiati del Donbass e vi avviserò quando verrà pubblicato il fatto quotidiano io proseguo a girare il più possibile per poi montare nei prossimi mesi documentari per TV Loft vi abbraccio grazie per l'enorme partecipazione anche per le critiche cerco sempre di rispondere con garbo a tutti anche perché sono convinto di aver fatto la scelta giusta ciao a tutti